Non si è ancora risolto il problema degli ascensori guasti alla stazione di Parco Leonardo. Un disservizio inaccettabile che ha pesantissime conseguenze, soprattutto sui disabili, che non riescono a raggiungere i treni. Gli impianti sono ancora fuori uso, denuncia Angelo Petrillo, capogruppo della lista civica Zingaretti. Ora sono chiusi con il nastro bianco e rosso, probabilmente apposto dai vigili del fuoco. È una situazione insostenibile che limita fortemente la mobilità dei passeggeri, in particolare di quelli con disabilità. Nessuno ha mai risposto alla lettera di segnalazione scritta insieme alla delegata del sindaco, Sandra Felici, che abbiamo inviato al consorzio. A seguito dei nostri interventi anche il primo cittadino le ha sollecitati. E anche questo non è tollerabile. Stiamo valutando la possibilità di presentare un esposto formale perché questo problema va risolto il prima possibile. In particolare a preoccupare non è solo la disparità di accesso, laddove alcuni possono prendere un treno e altri no, ma anche la mancanza di collegamento con uno degli snodi più importanti del comune di Fiumicino per un'intera categoria di cittadini.